in un'altra parte un'altra parte non da quelle d'estate questo fa un'espera oh mia è un'altra parte la faccia da mangiare Simone se la fa venire qualcuno che non si impinci la faccia da mangiare è uscita ogni notte è una bella carpa è uscita si si Simone sto riprendendo niente parolacce è bella è bella mi sto direttamente su youtube ricordiamo che l'ha traccato via il pesce eh salto nell'acqua attaccarlo il pesce vai chi mi toglie il tren di filo un attimo Enzo lo sai toglio? eh si però devi fa veloce no non prendi il cimino il pesce ti metto sul tavolino si 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 il peso c'è? si 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 muo muoide che purtroppo ho messo a registrare alta risoluzione mi fotti tutta la memoria no io devo fare le foto poi ti do massimo 5 minuti no poi stacchiamo qualcuno qualcuno si all'andata al ritorno non c'è stava niente non poteva fare mi sapevo me ne tornavo da dove ero rivenuto non c'è 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 il primo pezzo si si saliva e poi si scendeva un po' nel bosco poi attaccava attaccava era un letto di torrente asciutto erano tutte pietre per capire dovresti solo stare attento a non prendere distorsione mamma che bella vai e va e fa ancora ragazze riprendi riprendi no no sento quello dimmi che questo lo aspetta te lo faccio non c'è 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 attenzione dimmi quando posso staccare no puoi già staccare